Quando io ho comprato il Black Lotus, io ho comprato il Black Lotus Beta, che è il sogno di ogni collezionista di carte, perché è il simbolo del collezionismo di carte, l'ho pagato a un botto di sordi, però io non ho problemi a dirlo, no? E quindi l'ho detto pubblicamente, la gente, ma come? Quanto se l'hai detto? Sì, ma era meglio comprare una macchina? No, se no compravo una macchina, cioè... E quanto è speso, l'hai detto? Sì, 38 mila euro. 38 mila euro per una carta? Però la sensazione, che io me lo riguardo, ogni tanto vado in banca, me lo vado a vedere, cioè la sensazione di avere la carta, perché non tra l'idea da nessuno e non vale 38 mila euro, è molto di più, è impagabile. Certo, ma è un investimento anche oggi, una cosa del genere. No, non lo so, ma lo è. Tecnicamente mi ha fruttato, perché in due anni è arrivato a 100 mila. Quindi è già salita, però tu una roba del genere come fai a vendere? Non la venderei mai. Sì, è come da un braccio.